Volevo scusarmi per questi giorni, io me la sto tirando come Brad Pitt, anzi come Brad Piff, non mi piaccio in questa situazione. In fuga dalle telecamere come una star di Hollywood. Nei primi giorni del festival, Piff è apparso e scomparso velocemente dalla sala stampa del Teatro Ariston senza concedere interviste e il volto simbolo di MTV, protagonista del pre-festival con i suoi video, si giustifica in conferenza stampa per il comportamento da divo, ma diventa bersaglio delle prese in giro della Liti Zetto. Non sono abituato a girare e montare, non so cosa mando il giorno dopo per la gioca della Rai, quindi non ho materialmente il tempo di... cioè io devo girare e stare davanti a un computer a montare, quindi lo so. E non si cambia neanche la maglia. Sì, ma l'ho traspigata. E l'ho già detto, mi ho detto, ma devi cambiarti la maglia. Ma perché uso lo stesso milione, perché così posso... Può montare i pezzi che ti ho... Allora, non è un film, però... Io non mi avvicinerei. Lo so, mi comincio a puzzare, però... Lo so, sono un professionista, vado oltre queste cose.